Ciao a tutti ragazzi sono Coridan e con una volta ben ritrovati nel mio canale Oggi vi presento un gioco che stavo seguendo da diverso tempo Soprattutto anche lo sviluppo che ebbe su Kickstarter Gioco che ha avuto un successo fenomenale Si parla di Skull Tales e si parla di un board game che ha fatto molto parlare di sé Ovviamente un board game a tema piratesco, ambientato nei reali Caraibi Però ovviamente un po' come i Pirati dei Caraibi C'è un po' il discorso della magia, come Monkey Island, le sfide e insulti Ci sono mostri, ci sono creature marine E un po' prendetelo come se fosse davvero il gioco da tavolo e il board game di Pirati dei Caraibi Ed è un gioco dai 14 anni in su, ci sta secondo me Da 1 a 5 giocatori e la durata si va dai 150 ai 200 minuti Che ci potrebbe stare perché comunque è un gioco che ne racchiude ben 3 dentro E poi comunque vi farò una descrizione, vi darò un'infarinatura e tutto quanto Intanto ringrazio la Eclipse Editorial per avermi offerto questa copia per la recensione E non solo, perché mi hanno mandato anche delle cose del Kickstarter Che poi vi farò vedere nel corso del video Mi hanno mandato anche dei personaggi aggiuntivi con le loro schede che vedete qui dentro Mi hanno mandato il set dei dadi, bellissimo Perché questo gioco usa i dadi a 6 facce normalissimi Però proprio mi hanno mandato i dadi di Skull Tales E poi la cosa più bella veramente ragazzi perché chi ha problemi di spazio e soprattutto di token Mettere a posto l'organizer, già tutto quanto diviso in plastica per dividerlo con tutti quanti i token, le carte Questa è la cosa in assoluto più importante e veramente utile Vi faccio vedere un pochino come funziona unboxing Confezione del gioco, bellissima Vedete poi anche il disegno, la colorazione dei pirati Con un pirata che usa la magia che in questo gioco ovviamente è il voodoo Vabbè, nell'ambientazione dei pirati di Skistà E poi vedete le giubbe rosse Quindi la marina britannica E anche il simbolo insomma che ricorda molto A parte il Jolly Roger ricorda molto i pirati dei Caraibi E edizione inglese Questo regolamento, il regolamento del gioco e il libro dell'avventura Sono state tradotte amatorialmente dalla tanna dei Goblin Quindi magari vi lascio il link in descrizione Andate direttamente lì a scaricarvelo Non è il manuale ufficiale però comunque è tradotto Bene, vi faccio vedere la versione inglese Perché il gioco ha solo per ora la versione inglese Manuale di gioco Ragazzi, pieno zeppo di regole Sono 50 pagine Quaggiù guardate Guybrush Tripwood Vi ricorda qualcosa? Il pollo a carrucola Ci sono anche le sfide di insulti in questo gioco È veramente uno spettacolo Allora, il regolamento è un po' Scritto non benissimo, sono sincero Bisogna rileggerlo varie volte Perché più che altro non è tanto il fatto che scritto e scritto bene Non è organizzato bene, mettiamola così E questo gioco ha tre giochi in uno Perché ha tre fasi Una fase porto Una fase viaggio E una fase avventura La cosa bella è che ogni fase di questo gioco Ha un setup nuovo E delle regole particolari Quindi fidatevi Ciascuna avventura della campagna di School Tales Durerà, io penso, sicuramente più di due ore È un gioco decisamente lungo Schede dei personaggi Schede dei mostri Dietro ci sono schede per le azioni che si possono fare in città Che ovviamente è la fase di porte Tortuga E così via Schede bianche da riempire Perché è un gioco dove si passa di livello E ha una modalità narrativa a campagna Quindi passando di livello Dovrete segnare su questi fogliettini Un po' come nel vecchio Hero Quest Il passaggio di livello L'abilità, novitratti e quant'altro Il libro dell'avventure Quindi tutte quante le missioni della campagna Dobloni Bellissimi In plastica dura Arr, arr Dadi a sei facce Come vi dicevo prima Però noi abbiamo quelli proprio Vedete Della versione È uno stretch goal del vecchio Kickstarter Penso che comunque si possano ancora comprare Comunque tanto vi lascio il link in descrizione Un mondo di carte Perché ve lo dico Ve lo giuro veramente Sono, non ho mai visto un board game Che ne racchiude tre Quindi praticamente per ogni fase del gioco C'è un mazzo Quindi per la fase viaggio c'è un mazzo Per la fase porto c'è un mazzo Per la fase esplorazione c'è un altro mazzo Qua sotto divise le miniature Che ovviamente sono di eccellente qualità Vi faccio vedere ad esempio Uno dei personaggi che ci sono in gioco Un pirata Questo dovrebbe essere il Sea Dog Guardate bella anche la qualità Una giubba rossa Della marina navale britannica Di sua maestà Bellissimi E poi mostri marini Perché in questo gioco ci sono vari mostri Tra cui ad esempio Vabbè classico c'è il voodoo Ci sono anche gli zombie Uomini pesce Questi mostri marini qui Che sembrano granchi giganti E quant'altro Token vari Che non ce ne ha tantissimi in questo gioco Ma comunque sono abbastanza E poi le varie mappe Componibili Che sono sia mappe di città Che mappe su isole Quindi boschi e cose del genere E poi come vedete anche mappe marine Come vi ho detto In questo gioco Il dado I dadi ovviamente Che si vanno a tirare Sono i dadi da 6 Vi faccio vedere quelli direttamente Del gioco Che sono molto belli E che sul 6 Hanno il simbolo di un teschio Il Johnny Roger Perché in questo gioco Quando esce un 6 sul dado È sempre un critico Quindi Ha delle regole particolari Che il regolamento ci dice Quando esce un 6 Direttamente può essere parato Solo con un altro 6 E nel caso la ferita entri Vi farà una ferita in più Comunque vabbè Quelle sono cose particolari Secondo me di lungo Schede di personaggi Vedete abbiamo scelto Il catrot E il sea dog Che sono quelli un pochino più Iconici Ci abbiamo messo le miniature sopra I soldi che guadagnano Nella fase porto A fine avventura Che è poi la prima Che vi faccio vedere Le abilità speciali Quindi queste qui Sono le abilità O comunque i tratti Del personaggio E poi vediamo I punti ferita Quindi l'ene a 4 L'ene a 5 Il room qui accanto Sono i punti destino Che possono essere utilizzati Per tipo Ritirare un dado Fare un danno in più O azioni particolari Il numero delle azioni Che hanno I dadi che tirano In corpo a corpo I dadi che tirano A distanza La capacità di forza Per alcune prove La capacità Di movimento Di schivata Di salto E cose del genere La capacità intellettuale Quindi per lanciare Incantesimi E cose del genere E poi in fondo L'occhio Che è la percezione Che serve Per vedere Se ci sono trappole Nemici nascosti Per cercare oggetti E cose del genere Quindi queste sono le caratteristiche Dei personaggi sulla scheda Sono molto semplici Comunque Dove c'è scritto 3 Vuol dire che dovete tirare 3 dadi Per il corpo a corpo E questo personaggio Invece ne tira 2 A distanza Mentre invece il Sea Dog Ne tira 3 Qua vedete i dobloni Nei vari tagli E questa qui È la fase Porto Perché vi ricordo Che Tortuga ovviamente La città di Tortuga Potrebbe anche essere Nassau Perché il gioco Si divide in tre fasi La prima è Sono tre giochi Non sono tre fasi Ragazzi Sono tre giochi Ognuno con le proprie mazze E le proprie regole La prima è la fase Di porto Che vi faccio vedere Poi c'è la fase Di viaggio E per ultima La fase di esplorazione Poi dipende Dall'avventura Magari giocate in avventura Che è la fase porto Ma la fa nemmeno fare Comunque All'inizio dovete prendere Vedete c'è un tracciato Che va da 1 a 20 Dovete prendere I volti dei vostri personaggi Facciamo conto Nacca partite a 2 E dobbiamo metterle Sul punto 1 Del tracciato Spostate le miniature E a seconda Delle zone Che andate a visitare Dovete sprecare Del tempo Quindi magari Per spostarsi Da una zona ad un'altra Richiede 1 di tempo E quindi questo passerà a 2 Spostarsi da una zona ad un'altra Richiede del tempo E quindi ci si sposta a 3 Quando ovviamente Il tempo arriva fino a 20 È scaduta la vostra fase di porto E dovrete tornare sulla nave Che è praticamente Il punto di partenza E questo qua giù Che non ha un mazzo proprio Vi faccio vedere Vi dovete rispostare qua giù E partire al viaggio Praticamente Questa fase di porto È finita Non potete fare altre azioni Vedete Poi è scandito anche Vedete dal tempo Qua giù Dalla classiera in fondo Che come a farvi capire Che vi sta a pescadere Le azioni che potete fare qua giù Sono le classiche azioni di porto Dove Quando arrivate qua giù Dovete riscuotere Tutti quanti i soldi Che avete guadagnato Sia come equipaggio Che come pirati Perché nel gioco Potete prendere anche NPC O proprio equipaggio Che vi segue In missione Questo è quello Che guadagnerà Questo pirata Quando rientrerà Nella fase porto Spostandosi Vedete che ogni zona Al suo mazzo Perché c'è la zona del porto Dove si possono comprare Nuove navi O addirittura Potenziare la vostra È tutto quanto Scritto nel manuale Che non vi sto a fare vedere Comunque vi spiega tutto bene La fase di locanda Dove si può andare a bere Si può andare a recuperare Punti ferita Si può andare a levare Anche stress O maledizioni Al vostro personaggio Compresa la chiesa Che vi faccio vedere dopo E soprattutto Si possono assumere Nuovi membri Per l'equipaggio Qua giù è il mercato Quindi per andare A acquistare E vendere risorse Perché nel gioco Vi sarà anche chiesto Di vendere le risorse Che avete O acquistarne di nuove Perché non potete fare un viaggio Senza mangiare E senza bere Perché morireste La chiesa Dove c'è Marie Laveau La signora del voodoo Che andando qua giù Ovviamente c'è tutta quanta La parte spirituale Togliersi maledizioni E cose del genere E poi con la bocca qui Vedete c'è la casa del piacere Ogni zona Ha un mazzo Banale dirvi Che quando vi spostate Magari lui Dal porto Va nel mercato Dovete avanzare di uno E poi dovete andare A pescare La prima carta Dal mazzo Della zona dove siete Perché è un mazzo e venti Dovete andare a leggere Quello che c'è scritto Vi dà una descrizione Di quello che sta succedendo E poi sotto Vi dà una, due O a volte anche tre scelte Insomma dovete fare L'azione che c'è scritto Prendere una decisione È un po' come nel gioco Di Fallout La parte Narrativa Se vi spostate Magari al porto Nel porto potete fare Tutte le azioni Del porto Quindi acquistare navi Potenziare la vostra Acquistare cannoni E tutto Però potete anche Pescare la carta Dovete pescare la carta Quando scendate E vedere cosa succede Questa ragazzi È la fase di porto Detta velocemente Quando il tempo scade E arrivate al 20 Dovete prendere E tornare a bordo della nave E questa fase è finita Questa è la fase di esplorazione La fase navale Ve la faccio vedere dopo Perché ci sono più cose da dire Nella fase di esplorazione Di sicuro il gioco vi dirà Ma siete appena sbarcati Quindi i vostri personaggi Che è quelli che abbiamo scelto Il catrot Del seadog Vengono messi sulla spiaggetta E magari il libro Dell'avventure Che vi ricordo Essere questo qua Che lo dovete seguire sempre Vi andrà a dire Come settare La prima avventura Quindi fuori Dalla fase di porto Che poi Il vero e proprio gioco Inizia qui Come un dungeon crawl Vi dirà di mettere Che ne sono una mappa E un'altra Come vedete Le mappe tile Che questi sono piccolini Poi ci sono anche Quelli più grandi Quindi ad esempio Delle città O dall'altra parte Della fase esplorazione Della fase Scusate Della fase viaggio di mare Questa è la fase esplorazione Vedete che sono chiusi Da delle righe blu Da dei contorni E hanno delle piccole aperture Non è come un altro gioco Dove i tile Vanno messi sempre In maniera ortogonale Quindi dovete mettere Per dove c'è un'apertura Perché ora vi faccio vedere È una regola molto particolare E vi ricordate le schede Dei personaggi Che vi ho fatto vedere Che hanno Non le proprie abilità I propri movimenti I propri destino Ma soprattutto Le proprie azioni Ci si può muovere Come ci pare in questo gioco Sia attaccare un nemico Che muoversi Ci si può muovere Ortogonalmente O anche in diagonale Quindi in tutte le direzioni Mettiamo caso quindi Che io spreco queste 6 azioni Qui per muovermi Faccio 1 2 3 Già ne ho sprecate 3 Perché ho fatto 3 movimenti Se no posso fare Un'azione di corsa Raddoppio le azioni Che ho però Posso solo correre Quindi invece di muovermi Di 6 Muovo di 12 E questo serve per esplorare prima Stessa cosa magari farà Anche lui Mi ero dimenticato di dirvi Comunque importantissimo Ogni fase al suo tracciato Come vedete Questo qui Questa fase qui Al suo tracciato E qui sul 20 Da dove parte la nave Ci dovete mettere I vostri personaggi Qui non è che ogni azione Che fate passerà al tempo Il tempo passa Quando rivelate Un nuovo tile di gioco Oppure quando una carta Evento Una carta incidente Dal mazzo che vi faccio vedere Ora vi dice che il tempo Va avanti Quindi non va avanti A priori O quando aprite la porta Di una casa Magari di un villaggio Per esplorare all'interno E anche qui Si va avanti Sempre col tempo Questo va qui Questo va qui Questo segue Quando arrivate qua giù In fondo O avete finito la missione Arrivata alla grotta O la missione fallisce Quindi i vostri personaggi Non ce l'hanno fatta Fa la missione Devono scappare a bordo Della nave Andare via Quindi ricordatevi Che quando il tempo fallisce Nella prima fase di porta Dovete andare via In questa proprio invece Fallita la missione E magari La missione ci dice Entrando in questo tempio In queste rovine antiche Trovate due giubbe rosse Ora nel gioco Per sparare Vedete che loro Hanno Quattro punti ferita Tre azioni Vedete che praticamente Hanno due dadi In attacco E vedete che a distanza Ne hanno uno Che è praticamente Questo simbolo che c'è qui Più hanno l'abilità di schivare Come tutti quegli altri Che vi faccio vedere Poi l'intelligenza E la forza E questa è la scheda Di loro più ovviamente Anche i tratti Perché anche gli NPC Lo hanno Quindi mettiamo caso Che ancora l'azione dei giocatori Hanno altri movimenti Si può andare Ad attaccare In corpo a corpo E si può andare Ad attaccare a distanza Quando iniziate l'avventura Nella fase di porto Dovete sempre Comprare l'equipaggiamento O lo potete trovare Anche nell'avventura Fate conto che Questo è l'inventario Del personaggio Questa è la mano destra E questa è la mano sinistra Quindi all'inizio del gioco Dovete decidere Sempre scrivendolo Anche sulla scheda Dovete decidere Se il personaggio A parte che non abbia L'abilità ambidestro Come questo Che è una cosa particolare È mancino O è destro Perché vi dà dei bonus Comunque mettiamo caso Che nella mano principale Ha una daga E nella mano secondaria Ha un'arma da fuoco Le armi da fuoco Le riconoscete Perché hanno il simbolino Quando attaccherà Con la mano principale Non avrà malus Quando attaccherà Con la mano secondaria Invece avrà un meno uno Al risultato di tutti i dadi Quindi quando andrà a tirare i dadi Un 5 diventa un 4 Un 4 diventa un 3 E così via Un personaggio Che ovviamente Ha due tipi di armi Quindi una a distanza E una a corpo a corpo Può usare i dadi Sia a corpo a corpo Che a distanza Quindi questo Potrebbe tirare Con la bombarda Direttamente Alla giubba rossa E vedete che la bombarda Fa tre danni Quando colpisce Tira agitata 4 Quindi si contano le caselle 1, 2, 3 Ci arriva Nel caso va a tirare I dadi del personaggio Quindi in questo caso Il catrot è più forte In corpo a corpo Non è molto bravo a tirare Tira due dadi E gli escono Un 2 Un 1 È andata malissimo Perché poi oltretutto Sparando con la mancina Dovrebbe abbassarli di 1 L'1 rimane 1 Non si può andare sotto E il 2 nel caso Diventa 1 Per colpire un bersaglio Dovete sempre 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 Superare La sua difficoltà Di movimento Non eguagliare Superare Quindi per colpire il catrot Dovranno fare 5 o più Io invece per colpire La giubba rossa Devo fare 3 o più Niente di fatto Perché ho fatto Un 1 E un altro 1 Quindi non l'ho colpito Mettiamo caso La giubba rossa Mi vada a sparare Tirerà i suoi dadi Per colpire E dovrà superare La mia agilità Con le armi a distanza Se il colpo entra È finita Cioè nel senso Dovete andare a vedere i danni Questo nel caso Fa 3 danni E vi prendete danni Per il corpo a corpo invece Personaggio che attacca Il mostro O mostro che attacca Il personaggio Il personaggio tira i dadi Da corpo a corpo E deve superare L'agilità del mostro Ma il mostro per difendere Si tira la sua abilità Di corpo a corpo E deve superare La vostra agilità Quindi è un tiro Incrociata Alla fin fine Chi fa più successi Ha vinto Se il catrot Fa anche soltanto Un successo in più Della giubba rossa Per quel successo Per ogni successo Che ha fatto Che non è stato bloccato Si va a vedere I danni dell'arma In questo caso qui Vedete la daga Fa un danno Quindi farebbe 2 danni E 2 danni Lo ferirebbero Quindi ci si andrebbe A mettere i punti ferita Ma non sarebbero Abbastanza per ucciderlo Le regole del combattimento Sono tutte qui Poi ovvio Si possono fare più azioni Perché ad esempio Attaccare in corpo a corpo Chiede 2 punti azione E ce ne abbiamo 6 Cercare chiede un punto azione Muoversi chiede un punto azione Per ogni casella Ad esempio Caricare richiede Un altro tipo di azione Saltare richiede Un altro tipo di azione E ricordatevi sempre Cosa è importante Se fate più volte L'attacco con la stessa mano Avete un malus Di meno un dado Quindi se io Perché Per fare più attacchi Vi concentrate meno Il primo attacco Che faccio con la mano destra Pulito Il secondo attacco Che faccio con la mano destra Meno un dado Il terzo attacco Che faccio sempre meno un dado Perché più di quello Non perdete Però Se li fate alternati Attacco mano destra Nessun malus Attacco mano sinistra Nessun malus Riattacco un'altra volta Con la mano destra Nessun malus Se li alternate Se invece attaccate sempre Con la stessa arma Beccate appunto il malus Anche qui banale dirvi Che le armi al tempo di pirati Spare e ricarica Quindi quando sparate Con un'arma da fuoco La dovete O la girate Tipo di 90 gradi O la girate dall'altra parte Comunque è più facile girarla così E per ricaricarla Dovrete sprecare Tre azioni Quindi sprecate Se ce la mette Se ce la mette Nello stesso turno Se no le sprecate Nel turno dopo Per ricaricarla Mettiamo caso Loro siano stati sconfitti Quando vengono sconfitti I mostri lasciano al suolo Un token tesoro Che quando sarà raccolto Vi dirà Quante monete guadagnate E ovviamente le monete Le guadagnate Solo nella fase porto Quindi intanto Ve lo portate via E poi nella successiva fase porto Andrete a guadagnare Le monete che ci sono sotto Qui vedete La mappa C'ha questa entrata È tutta chiusa E ha uno sbocco di qua Allora noi mettiamo caso Che si vada avanti E si vada qua giù E sprecando un puntazione Si va a rivelare Una nuova mappa Per rivelare una nuova mappa Voi la dovete pescare Casualmente E dovete vedere Level red coat Se ce la potete andare Ad attaccare in qualsiasi modo Quindi mettendola così Ce la posso attaccare Perché vedete Tranquillamente Non va a bloccare nient'altro Però mettiamo caso Anche se Ovviamente questa Non ce la potrei mettere così Perché è chiuso Ma è solo per farvi l'esempio Se questa prima L'avessi collegata così E poi dicessi Ok andiamo a esplorare Quest'altra porta Che c'è qui accanto Questa non ce la puoi attaccare Perché vedi Come ce la attacchi Che l'unica entrata Che c'è È di qua È di qua Non ce la potresti andare A attaccare In nessun modo Quindi sarebbe Problematico Provarci a attaccare Una cosa del genere Nel caso che qui Non ci si possa attaccare nulla In questa zona Ci si mette Questo token Colteschio Che vuol dire Che questa zona È bloccata Non si può proseguire Assolutamente Da quest'altra zona E bisognerà cercare Ovviamente Un'altra strada Quindi vuol dire Che questa zona È inesplorabile Quando una zona È inesplorabile Automaticamente La faccia del vostro personaggio Scala di 1 E questa è una cosa Come vi dicevo prima Che fa passare il tempo Quindi il tempo passa Sia quando esplorate Una zona esplorabile Che anche quando Ci mettete Un simbolo del genere Che vuol dire Che quella zona È assolutamente chiusa A volte Ci sono alcuni Tile di gioco Tipo questo qui Che hanno il simbolo Del piede E un numero Questa è una prova Di salto Vuol dire che Quando il personaggio Andrà qui E proverà A passare da questa parte Dovrà fare Un'azione di salto Se no Nel caso Cadrà O si bloccherà O subirà punti ferita Comunque Andate a fare Un'azione di salto E qui vi dice Fate un tiro Sul vostro movimento Quindi il nostro Cutteroth Vedete C'ha 4 Quindi vuol dire Che tira 4 dadi E dovete Superate Con la difficoltà E 2 Quindi dovete fare 3 o più Voi andate a tirare I dadi del cutteroth Vedete che comunque L'ha fatta almeno Un 4 O comunque un 3 o più Quindi riuscite a saltare Dalla parte di là Per scavalcare E cose del genere La prova sarà sempre la stessa Quando visitate Una nuova zona Ricordatevi sempre Che se il manuale Vi dice di metterci i mostri Li mettete Come vi dice l'avventura Se invece il manuale Non ha quella zona lì Non vi dice di metterci i mostri Dovete tirare Un dado da 6 E andare a vedere Sulla tabella dell'avventura Che tipi di mostri Dovete mettere Comunque i mostri Vanno sempre messi Nella parte più lontana Rispetto all'entrata Arriva la fase incidente Che è la fase evento Che è quella Prima di iniziare il turno Che sono queste carte Qui con l'artigliata Ne girate uno E vedete cosa succede E lo applicate Di solito Quando si arriva La fase evento Di solito Ma non sempre Si va avanti anche nel turno Ve l'ho detto Nella strada Nel tempo che avete Praticamente Oppure Con l'azione Di andare a cercare Si va a pescare Direttamente da questo mazzo Qui con la pergamena Quindi si gira E si guarda Che cosa abbiamo trovato Che potrebbero essere armi Ma potrebbe essere Anche qualche nemico Nascosto Quindi la fase di esplorazione È questa qua Dovete seguire Il libro dell'avventura Per quello che c'è scritto Invece Laddove non vi dicesse Cosa posizionare Nelle varie stanze di gioco Invece dovete andarci A mettere direttamente i mostri Tirando il D6 E guardando la tabella Questa è la mappa di gioco Che sono i quattro Tile grandi Che avete visto Per le città Per i boschi Insomma Quando Nella fase di esplorazione E nella fase di viaggio Visto che sono doppia faccia Le girate Diventano una mappa di gioco Divisa in esagoni Qui abbiamo messo la nostra nave La nave pirata Quella nostra Il nostro equipaggio Ricordatevi che La zona di partenza È sempre questa qui centrale Che è l'isola di Tortuga Più tutte le altre isole Che potrete esplorare Guardando sempre Il libro delle missioni Magari il libro delle missioni Vi dirà Il vostro approdo Dovrà essere l'isola A E in più Sempre il libro delle missioni Vi darà degli obiettivi Sulla mappa E sempre la missione Vi dirà Dove ci sono Dei go al token Quindi Dei punti Da raggiungere Che sono l'obiettivo Della missione In più Magari vi dirà Secondo l'assignment Perché ne potrete avere Soltanto uno Che sarà assegnato Al capitano Ah In questa fase qui Dovete decidere Chi è il capitano Chi è il capitano Lo rimane Però il capitano Può subire anche Un ammutinamento Da parte Sia degli altri giocatori Che sono con lui Sia degli alleati Sia degli uomini Dell'equipaggio Si va a vedere la carta Che ci potrebbe dare Un obiettivo Ci potrebbe dare una rotta E ci potrebbe dire Che ne so Visita l'isola E Perché in quest'isola E Ci potrebbe essere Magari La compagnia delle indie Che sta tornando Con dei carichi preziosi Quindi dovrete Arrembarla Perché vi ricordo Che in questo gioco Ovviamente siete pirati Non potete far parte Della marina Navale E cose del genere In più C'è il mazzo Degli eventi Via mare Che anche questo All'inizio della fase Di mare Perché di visanturno Va girato E bisogna Scusate l'ho messo Dall'altra parte Comunque va girato E bisogna leggere Che cosa succede Quindi questo qui È il mazzo Degli eventi Navali La nave A seconda Della velocità Quindi di quante vele Avete dispiegato Con l'azione Che poi dovete fare Sul ponte Che vi faccio vedere La nave andrà sempre Nella direzione Dove ci sono le frecce Quindi questo È un movimento Che può fare la nave Questo no Perché non è che può Montare sull'isola Avanti sì Si può spostare così Se volete Far ruotare la nave Quest'azione qui Che la fate ruotare Vi costa Un punto azione Quindi fare Un'azione del genere Vi costerebbe Due azioni Perché poi Dovete sempre Andare a dritto Seguendo la direzione Appunto Dove ci sono le frecce Fino ad arrivare Poi negli obiettivi E quando arrivate Sull'obiettivo Girare e vedere Cosa c'è dietro Ovviamente Non siete solo In il mare Quindi ci potrebbero essere Navi nemiche Tipo della marina britannica Che vi danno la caccia O magari Perché no Sono passive Quindi vi passeranno Oltre Non vi attaccheranno Quello dipende Anche Dovete prendere Anche vedere Le carte event E quant'altro E poi ci saranno Soprattutto Non potrebbero mancare Mostri marini Come ad esempio In questo caso qui Il megalodonte Poi c'è anche il kraken E creature leggendari Quindi comunque Gli spostamenti sulla mappa Sono questi Quando le navi nemiche Ovviamente arrivano A una certa cittata Può iniziare Il combattimento Vede e proprio E poi la fase Di arrembaggio Che ora vi faccio vedere Anche qui C'è la conta del tempo Quindi Metterete sempre I token Con i volti Dei vostri personaggi Sul 20 E dovrete andare avanti Quando arriverete Quaggiù Sarà fallita la missione Quindi se non avete fatto La vostra missione Quando arrivate sul teschio Come in tutte le altre fasi del gioco Anche nella fase di porto Avete perso la missione Quindi ogni volta Che farete un'azione Dovete andare su Ricordatevi che questo È un token Della difficoltà Quindi questa ruota Quando la girate Seconda di alcune Carte event Ovviamente che potrebbero Scendere in campo Si alza la difficoltà Con regole particolari E quando arrivate O nella casella 5 O nella casella 4 Passate di notte Quindi un giorno È passato Perché si dovrà fare Anche la conta dei giorni Perché ogni volta Che passa un giorno Ovviamente l'equipaggio Deve mangiare e bere Perché se no potrebbero Morire disidratati O ancora peggio Potrebbe capitare Nel evento Che c'è la bonaccia Quindi non c'è vento Non ci si può muovere E ricordatevi Che quando arrivate qui È arrivata la notte La notte poi dura Questi turni E poi è passato un giorno Occhio Ricordatevi che Non sempre Poi a seconda della missione Ma nel 99% dei casi Quando finite sul teschio È passato il tempo Avete perso la missione In alcune missioni Invece vi potrebbe dire Che ad esempio Si va avanti di un giorno Sale la difficoltà E si va al giorno 2 Quindi non sempre Perderete sul teschio Ma tanto quello Ve lo farà presente Il libro delle missioni Questa è la disposizione Della nave Ora riprendendo sempre I personaggi Che abbiamo preso prima Facciamo conto Che lei Il catrot È il capitano della nave Ci sono varie azioni Che si possono fare Spostandosi Ora L'indicatore Questo qua giù Del tempo che passa È anche un po' L'indicatore Della stanchezza Dell'equipaggio Come a bordo I vostri personaggi Per ogni azione Che fanno Questo dovrà essere Alzato di uno Ma anche l'equipaggio Raffigurato da questi token Andranno a stancarsi Quando lo mettete così Quindi che punta Da questa parte qui a sinistra Vuol dire che sono freschi Qui Vuol dire che sono stanchi Hanno fatto un'azione Qui Vuol dire che sono Esausti E poi li dovrete girare Da quest'altra parte Rosso Che vuol dire Che avranno bisogno Di riposarsi E dovranno andare Ovviamente sotto coperta Nelle cabine Per passare un turno E riposarsi Poi al turno successivo Potrete direttamente Rigirarli Quindi ricordatevi Che ciascuno di questi Membri dell'equipaggio Questo token Sono 10 marinai Che non sono ovviamente NPC o i vostri personaggi Ma sono i marinai A bordo della nave E questi li assumete Nella fase di porto Come vi ho fatto vedere prima Dalla taverna Quindi Posto del capitano Da cui dà gli ordini Perché il capitano Che dà gli ordini A meno che non ci sia Un ammutinamento Perché se il capitano Perde punti di reputazione Ci potrebbe essere Un ammutinamento Però questa è tutta Un'altra regola particolare Che non vado a descrivere In questo video Fase del timone Nel timone Non ci potete mettere L'equipaggio Ci deve andare Ovviamente il timoniero E uno soltanto I posti dove può andare Un uomo soltanto Sono timone Capitano Albero maestro Per vedere a distanza Vedete c'è il simbolo Del minoculo Qui ci possono andare Soltanto personaggi E NPC L'equipaggio Può andare invece In tutte le altre zone Che sono addirittura Il ponte Della nave Perché anche il ponte Della nave Dove si potrà sporcare Ad esempio E dovrà essere fatta Una manutenzione Per pulirlo Era normale Magari anche Semplicemente L'acqua del mare Oppure non lo so Qualcuno Se era ferito Sangue Oppure Se erano Vesciati Di barili Oppure Era normale Manutenzione Tutti i giorni Perché ovviamente Non aveva che si sporca Venivano fuori Anche particolarmente Malattie Poi cannoni Dove spostare Ovviamente Sia Ci potete spostare Un personaggio Che anche L'equipaggio Quindi cannoni Per sparare A seconda di quanti cannoni Alla nave Quaggiù vedete La velocità Che dovete aggiornare Con dei token Tipo questo Per la velocità E quante vele Sono aperte Quindi nel caso Una vela Due vele Tre vele E così via Vele Azione Qui ovviamente Per arzare O abbassare le vele Azione anche qui Col secchio Vedete Di pulizia Della nave E poi La parte più importante C'è Le cabine Come vi ho detto La cucina L'infermeria Quindi un personaggio Ferito per curarsi Va qua giù Un membro Dell'equipaggio Ferito per curarsi Va lì E poi la stiva Che vedete È divisa In Dieci posti Però a seconda Di quanti ne avrà La vostra nave Perché alcune navi Hanno tre posti Alcune tipo Il galeone Ne ha dieci Comunque Quando dovete mettere Roba nella stiva Ti vedete che Ognuno ha due slot Quindi magari Questi prendono Due posti Della stiva Questo prende un posto E così via Questa roba La prendete Quando arrembate Una nave O quando nel corso Della missione Trovate magari Un relito Una cosa del genere E sia chiaro Questa roba qui È anche quella Che potete trovare Durante la fase Esplorazione Quando la dovete Portare a casa Dovrete avere Anche lo spazio Per metterla qui Perché se la nave È piena Non potete portare Nient'altro Questa è tutta roba Che scaricherete Nella fase di porto Per andare a vendere E ovviamente Vi daranno soldi Perché ricordatevi Che nella fase di porto Dovete pagare L'equipaggio Quindi gli omini Che vi ho fatto vedere Precedentemente Dovrete pagare Tutti i membri Del vostro equipaggio Tipo questi qua Che hanno un costo Ovviamente ve lo dice Il manuale Più tutti quanti Gli NPC Personaggi che avete Perché se non li pagate La gente si andrà Da mutinare O nel caso Si abbasserà Il morale Della surma Quindi questa qui È la parte Di tutte quante Le azioni Che potete fare Durante un'azione Di combattimento Ovviamente I personaggi Che vanno Sui cannoni Vanno a sparare Però se non c'è Nessuno al timone Non si può Manovrare la nave E arrivando Nella fase Di abbordaggio Vedete C'è questa nuova tabella Con le due navi Arrembate E anche qui Ovviamente Potrete fare Variazioni Passando Da questa parte qui Sui ponti Con le reti Potete arrembare La nave avversaria Dove anche Ovviamente Sulla nave avversaria Dovrete andare a mettere Fucili aerei Nemici e quant'altro E poi potete sparare Direttamente con i cannoni Però ricordatevi Che sparando A questa distanza qui Si spara soltanto Con i cannoni Tipo le colubrine Quelle per abbattere L'equipaggio di là Comunque Si arremba la nave Si vanno ovviamente Sempre uguale A tirare i dadi Per il combattimento A distanza Per il combattimento A corpo a corpo Uguale Identico Come nella fase Di esplorazione Vi ricordo che Per parare Un 6 Dovete tirare Un 6 Quindi comunque Un critico Viene parato Da una difesa critica Se no fa Una ferita in più Rispetto a quella Dell'arma Un 1 diventa un 2 Un 3 diventa un 4 E così via E una volta Arrembata la nave Si va a vedere Il carico Che aveva la nave E quel carico Ce lo portiamo via Ricordatevi che Non è essenziale Combattere Potete anche evitarle Quel che conta Che voi Nel tempo Che vi da La missione Nei giorni Perché poi ci sono i giorni Non sempre il corteschio Finisce Però nei giorni Disponibili La disposizione Che vi da la missione Voi dovete finirla Perché se no La perderete Quindi dopo la missione Sarà fallita Vi toccherà Rientrare in porto Potete rigiocare La stessa missione O potete cambiarle E andare avanti E fare un'altra Le ultime 2 cose Che non vi ho fatte Dall'inizio Ma tanto sono 2 cose veloci Mazzo delle magie La magia Ragazzi È il voodoo In questo gioco A parte magia elementale Come vedete Ma ci sono soltanto Due personaggi Che la usano E poi comunque ci sono C'è anche il mazzo Degli oggetti leggendari E quant'altro Importante Da non dimenticare mai Il libro dell'avventure Che in alcune parti È diviso in piccoli paragrafi Un po' come se fosse Un libro game E il libro dell'avventure È diviso ovviamente Per i vari capitoli E vi dirà sempre Come fare il setup Quindi vedete C'è anche il setup Delle zone da visitare Il setup dei mostri Vi dice tutto Dalla A alla Z Ora Il gioco È particolarmente complesso Complesso non vuol dire difficile Complesso vuol dire Che ha tante cose Da tenere a mente È particolarmente complesso Perché C'ha tre giochi in uno Cioè Uno si deve È come leggersi Tre regolamenti Ora vabbè Forse la fase di porto Non è un vero e proprio regolamento Diciamo Due regolamenti in uno Che comunque Non sono roba da poco Perché devi Le regole E il setup Della parte di viaggio Sono completamente diverse Dalle regole e il setup Della fase di esplorazione Che è quella sull'isola Che vi ho fatto vedere all'inizio E dalla fase del viaggio Quindi è un gioco Che ha tre regolamenti in uno Non è una cosa malvagia È chiaro È una cosa positiva Però C'è Al sotto c'è un pro E un contro Intanto è preciso subito Ma l'avete visto Come è nota nel video Ragazzi Questo non è un tutorial Io non voglio fare tutorial Sul mio canale Tanto poi Le regole che magari Non ho approfondito Vi invito Se c'è una regola Che non vi torna Qualcosa che volete sapere Scrivetemi un commento Rispondo sempre a tutti Quindi magari Mi va a dare a vedere manuale Vi rispondo E ci farò comunque Uno più gameplay Con mia moglie Quindi magari Quella regola Che le per le un to' iscritta nel video Te lo dico dopo Io voglio da un'infarinatura E per Almeno dovete capire Se il gioco vi può interessare È inutile Come dico sempre Farci il video di un'ora E spiegarvi tutte le regole E poi magari il video E il gioco non vi piace Ora come sempre Lati positivi E lati negativi Lato Mega positivo Anzi partiamo dal negativo Lato negativo È che c'è troppe cose Da tenere a mente Facili Però troppe Veramente troppe 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 Non ci sono schede reassuntive Quindi spesso e volentieri Dovete andare a prendere manuale Manuale Che non è scritto Chiarissimo O meglio Le regole sono semplici E te le spiega bene Però Non è organizzato bene Ci voleva un lavoro Di editing Secondo me Un pochino migliore Perché magari una regola Te la spiega via E poi te la rispiega a pagina 30 E te Com'era? Fammi tornare a pagina 2 Le cose andrebbero spiegate In una certa sequenza E poi c'è tante cose Da tenere a mente Ed è un gioco Che vi chiede tutta l'attenzione C'è talmente tante Cioè nessuno di noi Pensa almeno un genio Con un quotiente intellettivo Disumano Tipo quello Boh non lo so Nemmeno di Einstein Come fate con tanti giochi Da tavolo A tenere tutti i regolamenti In testa E questo ne ha tre Quindi se volete andare avanti In questo gioco Consiglio spensierato Se lo volete comprare E compratelo Perché ora vi do il voto Giocate solo a questo Giocate le 10 avventure Che c'è nel manuale base Giocatele Ragazzi giocatele tutte E non giocate a nient'altro Finitele Così vi liberate la testa E poi perché se iniziate Nel frattempo a giocare A qualcos'altro Vi passano di testa Perché c'ha Due regolamenti e mezzo All'interno Però c'è anche una cosa positiva Perché ci sono tanti giochi Di pirati Che a volte c'è Il dungeon crawler Bellino Però mi galberebbe anche La fase navale Allora mi vado a comprare Marauders e Merchants Che c'ha la fase navale Però mi sarebbe Garbata anche un po' La gestione del porto Andare lì Dover comprare Allora magari vado a prendere Questo a tre giochi in uno Ad esempio Io non adoro Magari la fase di porto Però magari Quei giocatori lì Li piace da morire Perché c'è più la parte Dove si va a parlare Dove si va appunto A cercare eventi O anche semplicemente A curare le ferite Ai personaggi O alla nave I danni alla nave Quindi potrebbe essere interessante Io adoro la parte Con mia moglie La parte di dungeon crawler Andare all'esplorazione E picchiare Però magari qualche altro giocatore Adora la parte Della gestione navale Quindi gestire l'equipaggio Dare gli ordini Combattimenti navali Mostri marini Questo gioco Accontenta tutti 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 Ragazzi Se cercate un gioco di pirati Non lo troverete Meglio di questo Poi occhio Se a voi non ve ne frega niente Del dungeon crawler Cercate un altro gioco Perché questo Comunque dovete fare anche queste cose Se volete Semplicemente Battaglie navali Cercate magari qualcos'altro Ma se cercate L'esperienza definitiva In ambito piratesco Secondo me Meglio di scultezza Non troverete niente Se gli devo dare un voto Li do un 10 su 10 Perché vi giuro È il gioco Di pirati dei caraibi Che poi ci sono dei richiami Disumali C'è un personaggio Che è Inigo Montoya Della storia fantastica Oppure ad esempio C'è Guybrush Tripwood Con il suo pollo A carrucola C'è Madame Marie Laveau Regina del Voodoo C'è un personaggio Che sembra un misto Fra Papà Legba Oppure anche Il Baron Samdi Insomma È veramente interessante Ragazzi Vi sfido A trovare Un gioco Di pirati Però nel complessivo Non soltanto In una delle tre fasi Lo dovete prendere Tutto insieme Un pacchetto intero Migliore di questo Io penso che non esista Primo link È in descrizione Io spero Che non ho controllato Ma spero si possa ancora acquistare Ma se si può acquistare Prendetela al volo E secondo link Vi lascio Il forum La sezione di download Della Tana dei Goblin Perché lo hanno tradotto Tutto quanto in italiano Libro delle avventure Quindi almeno ve le leggete in italiano O ve le state a leggere in inglese E soprattutto Regolamento Quindi magari Perché la versione ufficiale italiana Non esiste Dovrebbe essere tipo Gioco base in spagnolo E poi traduzioni tipo O in francese in inglese O in tedesco Qualcosa del genere Non mi ricordo Merita veramente da morire 10 su 10 Io ringrazio L'Eclipse Editorial Per avermi offerto Una copia per la recensione Grazie mille È un onore collaborare con voi Mi avete mandato Non avevo nemmeno Un gioco di pirati Per ora Ne cercavo uno E mi è arrivato In assoluto il più bello Quindi fatemi sapere Cosa ne pensate Con un commento E tutti quanti I nostri social Poi dopo a scendere Dopo i due link principali Ciao ragazzi Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima